Quest'anno IOP ha un'iniziativa nuova che si chiama IOP Pianifica. IOP Pianifica in buona sostanza è la presentazione dello Study Club IOP in cui in tutta Italia, in quasi tutte le regioni d'Italia, i nostri coordinatori presentano un caso clinico eseguito da un socioattivo. Il pubblico, costituito da odontoiatri, visiona la diagnosi, la prognosi, poi discute il caso clinico nel piano di trattamento. Questo è molto interessante perché la discussione che si crea è estremamente viva, vivace e rende il pubblico protagonista più del presentatore. L'iniziativa è andata molto bene, si è svolta tra maggio e giugno e circa 33 sociattivi IOP sono stati coinvolti, più di 300 medici sono intervenuti in tutta Italia. Questo ha fatto sì che l'iniziativa si ripeterà nei prossimi mesi, probabilmente in autunno e anche negli anni successivi. IOP Pianifica vuole essere un punto di incontro tra i soci attivi IOP, IOP in generale, e i soci ordinari di IOP e anche i non soci che sono interessati al piano di trattamento protesico. Questa iniziativa verrà ripresa nei prossimi mesi, in autunno e poi nei prossimi anni. E così con IOP Pianifica gli Stadi Club di IOP sono partiti e vi aspettiamo tutti.